Un secondo per gestire. Davide, complimenti. Che è il sentimento dopo questa vittoria? È qualcosa di incredibile, bellissimo. Devo ancora realizzare ciò che ho fatto con questa bellissima vittoria. Sono contentissimo. Come è andato questo ultimo chilometro, questo sprint? L'ultimo chilometro ho cercato di stare sulle ruote di pietilli della Team Wonti, che era quello più forte in salita. Ho aspettato gli ultimi metri per sprintare e ce l'ho fatta. E noi avevamo una bella vittoria al giro per la squadra Euro. È un'applausonante questo? Sì, questo è veramente da morale. Siamo una squadra che lavora bene e vogliamo farlo vedere a tutti. e ce l'ho fatta vincere. Chissà che qualche mio compagno non regalerà qualche altra vittoria da qua a fine Giro d'Italia. E adesso con questa maglia? Adesso con questa maglia cercherò di difenderla il più possibile. È una maglia veramente bella e da onorare in questo bellissimo Giro d'Italia. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.